È stato molto sottile ovviamente, perché qui nessuno meritava di andare via e tutti merito nell'area finale. Però abbiamo fatto un ragionamento, ovviamente c'è un discorso anche affettivo, lei è legata a te, io sono legata a te, insomma, anche se siamo tutti legati affettivamente, perché a questi punti siamo tutti legati. Però abbiamo fatto un ragionamento, oggettivamente, guardandolo da fuori, e abbiamo ragionato, la persona che ha contribuito un pochettino di più al gruppo in tutti questi mesi è Andrea. E quindi abbiamo scelto Andrea. Questo è stato il nostro ragionamento. E allora possiamo quindi ufficializzare che il terzo finalista di questa edizione sei tu, Andrea Mainardi! Complimenti! Grazie a tutti!